Amici di Primo Canale, un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Anticiclone subtropicale presente sul Mediterraneo e sull'Italia, che determina tempo stabile e in prevalenza soleggiato anche in Liguria, possibilità di qualche nota instabile soltanto sulle Alpi Liguri. Per quanto riguarda la provincia di Imperia, dunque, avremo una giornata ben soleggiata e calda praticamente ovunque, la possibilità di qualche temporale di calore pomeridiano sarà presente proprio sulle vette delle Alpi Liguri. Sulla provincia di Savona, situazione simile, con tempo soleggiato e caldo e qualche temporale che potrà sconfinare anche sulle zone interne della provincia di Savona. Per quanto riguarda la città di Genova e i dintorni, giornata soleggiata, al mattino possibilità di qualche nuvola bassa marittima sull'area costiera, ma poi appunto tanto sole, clima caldo e anche piuttosto affoso. Situazione simile anche sul Tiguglio, con temperature massime che si stabilizzano intorno ai 30 gradi lungo la costa, ma con elevata sensazione di afa e infine alla Spezia la situazione non cambia, giornata ben soleggiata e piuttosto calda, con venti deboli di brezza e mare poco mosso o quasi calmo. La situazione non cambia anche nella giornata di giovedì, con la presenza dell'anticiclone sul tropicale africano, tempo stabile, soleggiato, molto caldo, possibilità di qualche nota instabile soltanto sull'Alpi Liguri e sull'Appennino Genovese. Per il momento è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.